Ciao! Allora, i programmi di stamattina sono andare a fare colazione, andare a allenarsi, e questo video inizia così. L'avevo dimenticato in macchina. È stata molto bella. Avevo forma a respirare un po' le aree e a salutare i ragazzi. Buongiorno ragazzi! Avevo detto che facevamo colazione. Sì. Ok, colazione l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo decidere il da farsi. Oggi non fa poco freddo. Oggi fa freddo. Per cui ci attrezziamo. Ok, siamo pronti per andare ad allenarci. Oggi. Oggi. A presto. E' un po' di più! 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 Adesso facciamo le pressioni io e te! Vai! Dove? Le pressioni si fanno ovunque! Comunque Mirko non fa il palestra perché è per quello! Vedrete che qua tra qualche mese sarà in piena forma! 3 Ok! Per oggi ci siamo allenati abbastanza! E' stato bello? No! Per niente! Al prossimo video! Ciao! Oggi siamo qui per fare l'ettrazione! Mi insegnerò come si fa! E poi mi ha insegnato anche la meraviglia! Mi insegnerò anche a Mirko! In realtà non so che parte del corpo sarebbe! E' un po' di più! E' un po' di più! Un po' di più! È un po' di più! Grazie.